Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. L'ho accettato perché appunto mi ha chiesto il partito di fare questo sacrificio perché negli ultimi sei mesi non penso che si possa fare tantissimo, però il partito all'unanimità ha cercato, ha trovato in me la persona che possa rappresentarli in amministrazione insieme all'assessore Giunta. Ci stiamo preparando in modo ottimale le prossime elezioni, la nostra coerenza politica ci impone di riproporre la candidatura al sindaco di Carrubo.